Un momento di riflessione e di preghiera per ricordare gli operatori sanitari che hanno perso la vita lottando in corsia per assistere ai pazienti covid. Anche all'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino è stato osservato un minuto di silenzio questa mattina in memoria dei colleghi vittime della pandemia. Prima dell'inizio del turno di lavoro nel covid hospital di Contrada a Moretta ha arregnato il silenzio e tutto il personale a capochino onorato che ha combattuto in prima linea per aiutare i malati. La direzione strategica dell'azienda Moscati nel ricordare i tanti operatori sanitari uccisi dal virus esprime un particolare pensiero di vicinanza alla famiglia dell'infettivologo Mario Claudio Magliocca, dirigente medico dell'unità operativa di malattie infettive deceduto lo scorso dicembre in un reparto covid del suo ospedale dove finché ha potuto ha lavorato con passione, profondo senso del dovere e grande umanità.